La crisi continua a mordere, l'elenco delle fabbriche che chiudono assomiglia sempre di più a un vero e proprio bollettino di guerra. Qualche esempio, le vetrerie Gianotti di Lodi, l'Alcatel di Vimercate, la Marcegaglia di Graffignana che potrebbe lasciare a casa a metà dei 120 operai, l'Alfa Lancia di Arese dove stanno per essere messi in mobilità gli ultimi 79 metalmeccanici, per non parlare dei 90 posti a rischio della Candi di Lecco. Impossibile fare previsioni su chi rimarrà disoccupato nel futuro più prossimo, ma purtroppo il bilancio è certo sulle medie e grandi imprese metalmeccaniche lombarde. 608 dipendenti nel solo mese di ottobre hanno ricevuto la lettera di licenziamento. Le province più colpite, Bergamo dove raddoppia il numero dei licenziati, con una differenza del 205% in più rispetto al 2012 e Pavia con 356 operai che hanno perso il lavoro. Male anche Milano e la provincia di Monza e Brianza, mentre Brescia, Cremone e Mantova danno segni di miglioramento. C'è un lieve calo rispetto a settembre, ma la tendenza è in forte aumento su base annua. Secondo il sindacato di categoria della CGL, la FIOM, l'aumento degli esuberi nel settore è pari circa al 28%, un terzo in più rispetto al periodo di gennaio-ottobre 2012. La FIOM ha così chiesto una legge regionale sui contratti di solidarietà. La maggioranza di centrodestra in regione ha nominato il consigliere Enrico Brandbilla del Partito Democratico, relatore del progetto di legge che potrebbe essere messo in votazione all'inizio di dicembre. Secondo la Camera del Lavoro, incentivare i contratti di solidarietà a livello regionale è importantissimo perché così, invece di cassa integrazione e licenziamenti, si avrebbe una riduzione dell'orario di lavoro e retribuzioni pari all'80% del totale, mantenendo le professionalità in attesa di una ripresa dell'economia.